Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è perfezione. Cosa rende un posto di lavoro perfetto? Le 5 S. Stipendio, stabilità, smart working, socializzazione e scambio alla pari. Lo dice un'indagine presentata dall'Istituto Milanese Astra Ricerche per Heineken. Lo stipendio dunque fa la differenza assieme a una serie di beni immateriali. E a proposito di differenza, nella sede di Sesso San Giovanni della Heineken lo smart working è a tempo indeterminato con diritto alla disconnessione e kit di lavoro da casa per tutti i collaboratori. La seconda parola chiave è affitto. ATM, l'azienda di trasporti milanesi, ha previsto un contributo di 3.000 euro per i collaboratori che avranno superato tutte le prove di selezione. Avranno un canone di affitto della durata minima di sei mesi. Milano, lo sappiamo, è una città molto cara. Le aziende possono venire incontro ai lavoratori. Terza e ultima parola chiave è parità di genere. Vodafone ha ottenuto alla certificazione nazionale assieme ad altre aziende, per esempio ING. Tra le misure che ha introdotto Vodafone, il Vialorenteggio 240, il nove mesi e mezzo di maternità retribuita al 100% e il contributo per le spese di asilo nido. Il nostro obiettivo, dice l'HR Silvia Cassano, è lo sviluppo professionale e la promozione di una maggiore presenza femminile in posizioni di leadership e aggiunge il 40% di donne sono qui in posizioni manageriali, incluso il comitato esecutivo. Largo dunque alla parità di genere e aggiungiamo noi largo anche sempre al merito. Buon lavoro a tutti!